Icon palestre a Montesilvano il nuovissimo centro fitness in via Ruffilli 1 Icon palestre aperto sette giorni su sette con Icon palestre avrai tutto il fitness che vuoi da soli 19,90 euro al mese Hawaii viaggi e vacanze di Anna Bruna Gianzante via Gabriele d'Annunzio 70 Villa nuova dice pagati pescara salve a tutti oggi parliamo di luoghi maledetti maledizioni e spiriti guardiani alcuni sostengono che esistono dei luoghi particolari che sono ammantati di un'aura malvagia secondo alcuni questi luoghi sono in realtà dei portali attraversati da esseri che alcuni definiscono buoni altri definiscono magici altri definiscono figli delle stelle altri viaggiatori nel tempo e altri ancora fantasmi questi luoghi alcuni di questi luoghi sono presenti anche in Abruzzo si dice che in alcuni posti siano stati avvistati degli esseri particolari che secondo alcuni erano demoni secondo altri erano figli delle stelle secondo altri ancora in realtà era erano membri del piccolo popolo come ad esempio gli spiriti guardiani tra cui può essere innoverato secondo alcuni il cosiddetto mazzamariello o mazzamoriello che in realtà è un essere o se si preferisce un folletto dotato di una mantella rossa e di un cappello rosso ed apparirebbe secondo alcuni all'interno di un mulinello di vento esso apparirebbe con una forma di cane e questo mazzamariello pare che sia anche uno degli spiriti guardiani presenti in alcuni luoghi infatti questi spiriti guardiani hanno il compito di guardare secondo alcuni dei tesori secondo altri semplicemente di avere cura di determinati posti molti spiriti guardiani erano o donne o bambini perché la tradizione vuole che questi spiriti siano delle anime innocenti che sono stati sacrificati e praticamente hanno il compito di guardare questi posti o di guardare questi tesori e quindi una volta che questi tesori diciamo così sono stati scoperti e lo spirito guardiano non ha potuto salvarli la sua anima praticamente è libera di andare però non si sa dove per questa puntata è tutto arrivederci alla prossima